Aveva rapinato un turista polacco lungo la via Fardella, il cittadino straniero sottoposto a fermo di polizia giudiziaria dagli agenti della squadra mobile della questura di Trapani. Il giovane, un 25enne di origini tunisine, la notte precedente aveva fornito delle indicazioni al turista, accompagnandolo poi personalmente in un esercizio commerciale aperto nelle ore notturne dove insieme, a più riprese, avevano consumato delle bevande. In seguito entrambi si erano diretti verso la struttura ricettiva dove il giovane polacco alloggiava, ma durante il tragitto il tunisino, con una manovra repentina, aveva spintonato alle spalle il turista facendolo cadere a terra. Nel frangente il magrebino gli aveva sottratto le carte di credito e il telefono cellulare, dileguandosi poi rapidamente a bordo di una bicicletta. Gli agenti della Polizia di Stato, dopo un'accurata visione e comparazione delle immagini estrapolate dai sistemi di videosorveglianza della struttura ricettiva con quelle tratte dagli archivi di polizia, hanno individuato il presunto rapinatore e dopo averlo rintracciato lo hanno condotto in questura dove è stato anche riconosciuto dalla vittima. Essendo stati raccolti gravi indizi di colpevolezza e tenuto conto del pericolo di fuga, il giovane straniero è stato sottoposto a fermo di polizia giudiziaria con l'accusa di rapina aggravata e poi condotto presso la locale casa circondariale su disposizione del PM di turno presso la procura della Repubblica di Trapani. Il provvedimento è stato poi convalidato dal GIP che ha confermato per l'indagato la custodia cautelare in carcere.